Buongiorno e buona domenica a tutti voi, eccoci di nuovo insieme per rispondere soprattutto alle tantissime domande in merito a un bonus da 1000 euro. Come vi avevo promesso mi sono documentato ed eccomi pronto a darvi tutte le notizie in merito a questo bonus da 1000 euro. Prima di procedere mi raccomando se non siete ancora iscritti alla pagina e al canale fatelo, è utile, è gratis ma serve soprattutto a voi per essere informati ed aggiornati su tutto ciò che vi spetta di diritto. Partiamo subito, c'è un bonus spesa da 1000 euro, come funziona, chi può richiederlo e come spenderlo. L'agenzia Italia, non solo Socialcard, nel 2025 con tutta probabilità arriverà un aiuto in più per le famiglie, il bonus spesa da 1000 euro, il doppio rispetto a quanto previsto dalla misura già attiva. La misura che dovrebbe essere, attenzione, dovrebbe essere contenuta all'interno della prossima legge di bilancio per l'anno 2025. Non è per tutti ovviamente. A beneficiarne di questo bonus da 1000 euro saranno le famiglie in disagio economico. Ecco come funziona e chi ne ha diritto. La domanda potrà essere presentata fino a febbraio 2025, mentre la cifra erogata varia a seconda del reddito fino ad arrivare a una soglia massima di 1000 euro. Vediamo quali sono i requisiti. I se non superiore a 10.000 euro, famiglia monoreddito, presenza di minori a carico, residenza in aree a forte disoccupazione, in più disoccupazione uno o entrambi i genitori. Per la richiesta ovviamente si potrà fare direttamente accedendo alla piattaforma IMS con le proprie credenziali Speed C e CNS oppure vi fate aiutare dal vostro caffè patronato di fiducia. Ma tutto questo, come già vi ho detto all'inizio, dovrebbe, quindi usiamo il condizionale, dovrebbe essere inserito nella prossima manovra di bilancio per l'anno 2025. Quindi al momento non c'è nulla.